dovrebbero fare i giornalisti, io sono giornalista, non sono un venditore di giornali, sono un giornalista perché sono due cose diverse, e il giornalista prima di pubblicare qualcosa dovrebbe informarsi allora vi informo di questo, io sono stato chiamato da circa 40-50 testate, radio, giornali, televisioni libero, il giornale e la verità non mi hanno mai chiamato, non mi hanno mai chiamato nessuno ci ha chiesto qualcosa, nessuno ci ha chiesto un intervento, nessuno ci ha chiesto di spiegare cosa siamo sono semplicemente andati a spulciare i nostri profili Facebook, lo faranno con le prossime sardine e continueranno ad accusarci perché la loro retorica dice il PD fa schifo, quindi questi devono essere per forza del PD perché non sanno trovare argomenti, e la cosa incredibile è che noi a Bologna abbiamo spiattato Salvini perché lui si aspettava il binomio centri sociali Salvini, con cui ha costruito un grande consenso e si è trovato una piazza di 15-20 mila persone che pacificamente sono scesi con una sardina ritagliata di cartone dicendo siamo comunque più forti noi che portiamo un messaggio di pace e di speranza rispetto a tutta la retorica dell'odio e della rabbia su cui è stato costruito il consenso l'altra cosa incredibile è che io ritengo assurdo che si continui a parlare di Bibiano questo è uno dei motivi per cui noi scendiamo in piazza perché non vogliamo una campagna elettorale come è stata in altre regioni, come sarà in Italia non vogliamo che la politica italiana sia questa roba qua non vogliamo che la politica italiana sia questa roba qua